Io non ho capito che cosa facciamo oggi. Io l'ho capito e so benissimo che tu hai un problema rispetto a questo salotto, ma adesso lo capiremo insieme. Si è fatto subito. Riverinze a tutta la valle spaziale. No, spiegando. Ti spiego, praticamente oggi faremo una roba semplicissima, ma che secondo me descrive la persona, l'animo della persona. Andremo a vedere le nostre cronologie di acquisti su Amazon. Oh no. Cosa o no? Ma cos'hai da nascondere? Provi da essere sinceri. Ma io compro tutto. Appunto per quello. Sarà molto utile perché tutti i link delle cose che magari abbiamo comprato, io compro pochissimo, Nelson compra tantissimo, ve li metteremo qua sotto in descrizione. Facchiamo il link della nostra vetrina. Della nostra vetrina. E' vero che questo salotto è nato da un'idea di tonno di ah, un mio amico ha comprato delle birro. Tipo un pack da 150 birro e lui non lo scrive mai. Io l'ho fatto. Quelli da Space Valley, le ho messe io, le ho io. Io parlavo di un altro mio amico, però è vero che anche tu l'hai fatto. Io le uso. È utilissimo perché tante volte io mi approccio alla piattaforma Amazon senza sapere cosa devo comprare. Vabbè in offerte, le offerte lampo. Non compra. Io entro e dico, chissà di cosa potrei aver bisogno. Lui compra. Se mi ritrovo completamente distante dalle dinamiche di acquisto compulsivo, l'algoritmo solito non funziona. Io spesso mi approccio ad Amazon dicendo, ma io ho già tutto, non mi serve niente. Sulla vetrina ci saranno anche degli oggetti di Cesare. Cesare era molto interessante secondo me. Lo scopriremo nella vetrina. Direi però di partire da Nick. Allora io... Quale c***o di problema hai? Io condivido l'account Amazon con un botto di gente. Cioè mio padre, mia sorella, mia mamma. Io penso che in realtà quello che voglia nascondere Nick è che lui sia l'unico in realtà che lo sa propriamente usare a Amazon. Io lo uso molto poco. Io ad esempio ho un mio account, però spesso compro cose di mia mamma. Quindi sono più di robe da cucina. Io compravo roba per tu. Eh, mi stavo per dire... Io prendo davvero un account. No, capisco mia mamma. Ma di la verità è perché trovi qualcuno che ti compra le cose. No! Vabbè. Nicolas! Allora, sto guardando comunque che... No, tu stai filtrando. No, ti giuro, non sto filtrando. Ho comprato i guanti da giardiniere. Questo è il mio papà. Comincia! Questo è il mio papà, poi un po' li uso anch'io. Comunque lavoro in giardino, legna. Posso dire che per come hai messo il tuo giardino mi aspettavo di meglio. Non l'avevi mai visto casa mia. Ma come non l'ho mai visto casa tua? Io ho un botto che non la vedo, è cambiata. Ci sei fatti i leddini della Philips, eh? Bella casa nuova. No, allora, intanto dove hai visto i leddini della Philips? Questo è un ricamo starter kit. Cosa? Ricamo starter kit. No, play lay. Ricami? No, sarà mia mamma. Ma che bordello. Ma quello che mi sto rendendo conto è che in realtà siamo pochissimo a Amazon. Perché subito nella seconda pagina ci sono le gali di Natale, che erano dei gran guanti e un sacco di roba per la lana per mia mamma. Intanto un'altra cosa interessante... Le ha prese mio padre. Sì, le ha prese mio zio. No, Nicky ce la sta truffando. Cioè tu hai preso ultimamente solo un paio di guanti. Non li ho presi io. Che cosa hai preso te? L'unica cosa che ho preso sono stati i microfoni per... Beh, ha preso dei microfoni. ...per Space Valley. Ok. Fa pochi acquisti ma molti ho culato. Assurdo tipo non compra nessun libro su Amazon perché li compra in libreria per supportare... Questa è una cosa che sto cambiando recentemente. No, Nicky. Io purtroppo ho il problema opposto. Io vado in una libreria dove si vede che li sono stigli da un po' e spesso sono un po' rovinati. A volte capita però tipo tutti i manga... Vecchio fume ha rovinato il fumetto. Che c***o! No, c'è un graffio di gatto palese. Ti hai prestato il fumetto ma sei pazzo. No, mandalo indietto. Ti hai dato un passaggio di guada a tutto studio, già dimenticando nella sua macchina e me li ha restituiti ieri. Io ti noti in alto. C'è un graffio in una copertina. Il mio ultimo acquisto su Amazon è dell'8 novembre 2021. Tra l'altro un regalo dei miei genitori per me, per il mio compleanno, ed è una borsa, porta luci e fotocamere varie. Roba noiosissima. Non c'hai un d***o dentro, un qualcosa che... Non si sa mai. C'è bambini a casa che ci guardano. E se volete comprare qualcosa attraverso Amazon Prime chiedete a Nick. Comprerà qualcosa per voi. Ah sì, ve lo mando a casa. Ah, io sono sicuro di aver fatto pochi acquisti, quindi o passiamo a me o passiamo alla lista infinita. E noterei come posso finire? Eh, prego. Dovevo guardare io. Ma sì, guardalo te. Assassin's Creed Origins e Odyssey, tra l'altro che non hai giocato. Che non ho giocato, ho ancora pacchettato. Io ti avevo detto non comprarli perché li giocherai fra una vita, infatti lui. Però almeno se ho un remote controller di PlayStation, cos'è? Telecomando. Ah, hai preso il telecomando? Telecomando la PlayStation. Lui la usa come Smart TV. Tu hai la Smart TV. Sì, ma facciano male male. Bandai, Star Wars, cos'è? Max è un figo di Django Fett, però in versione. Ti hai regalato a tuo padre. Ti ho regalato a mio padre. Lo consigli? Lo consiglio, bellissima quella serie. Tuo padre finisce? Del regalo? Sì. Un telefono in transito ma in ritardo, mai stato consegnato. No, no, è la cover, è la cover che tu vedevo. Ma segnala che non ti è mai arrivata. Non arriviamo. C'è scritto che è in ritardo. Non fatelo, no? Jefferson amaro importante. Non me l'hai mai fatto assaggiare? Eh, è vero, ce l'ho a casa. Non me l'hai ancora fatta entrare in casa tua. È vero. Seratina Jefferson e visita della casa. Andiamo a messare le potenti di casa tua. Stasera, andiamo a te. Stai un po' esagerando, stai un po' allargando, però vabbè. Do toner cut professionale recupero. Fa vedere. Poi rimborsato. Ah, è vero, sì. Vestito per gatti. Era un vestitino per gatti. Non ha funzionato. Era della taglia sbagliata. Vabbè, un eco show, una Amazon Smart Plug. Ah, Geralt, Grandmaster, Yur Sin. L'altra c'è un figure di Geralt, era un po' in f***o. È assurdo, cioè, il 2020 hai comprato tre cose, tu hai fatto tutta la pandemia senza comprare niente su Amazon. Io compravo qualsiasi cosa, anch'io. Non riesco ad entrare nella politica del spendo tutto. Perché sono avaro. No, beh, sei risparmio. Direi di passare a Frank. Non vuoi dare... No. Ti ho provato. No, però, vediamo quanto si può andare indietro. 2012. Ma è un botto di roba? No, non è vero. Qual è il tuo primo acquisto a Amazon? È il Samsung Galaxy S3. Ma vai ai più recenti, dai. Ho le bustine per coprire i fumetti. È vero, ora sei in f***o che devi coprire ogni fumetto. No, dopo aver visto quel graffio lì che ho avanti di piangere. Poi, un botto di fumetti di Star Wars. Ok. Poi, la scienza delle verdure di Bressanini che ho legato a mia mamma, anche se pensavo fosse il manuale della macchina per impastare di Space Valley che le ho prestate. Cosa? Poi... Non è finita? Perché ero con te, che la stavo portando in macchina e mi hai detto, ti do una mano a caricarla. Tante volte è successo? Ho l'affettatrice, ho la... quella per mettere sotto vuoto. Quella, quella è tanta roba. Funziona bene, però sono finiti i sacchetti, se riuscissimo a ricomprarli, la griglia elettrica che volevo usare quest'estate alla fine non ho usato, ce l'ho ancora lì, aspetto la bella stagione. È tipo un barbecue. Tutto quello che è qua e non è usato, secondo me è bello dargli una nuova. Sì, no, è vero, no. Tanto so dove sono. Vabbè, cover per il telefono. È tutta roba protettiva per adesso. Ho la schiuma per capelli, che sono abbonato una volta al mese e mi arriva. L'acquisto, quello periodico. Esatto, per risparmiare. Ma puoi mettere gli abbonamenti, una volta al mese ti arriva. Vabbè, dei libri sul Kindle che non ho mai letto, che probabilmente non leggerò mai. Un libro di Geralt, di The Witcher, che non leggerò mai. E i Tile per trovare le cose. I portachiavi. Quelli mi serviranno proprio di brutto. I AirTag, però in versione Android. Però, mi hai detto che è un mega pacco perché devi fare un abbonamento. E questi della Tile, per avere la funzione in cui ti suona se ti allontani troppo, devi pagare l'abbonamento. Semplicemente ti danno in temporale la posizione o l'ultima posizione in cui erano connessi con il telefono. Il massimo che ti possono fare, però carini. Ha Dixit, che ho regalato ai miei cucini, e altre bustine per i fumetti. Ma queste bustine è presa. No, per le carte. Per le carte dei giorni al tavolo. Le pastiglie per la lavastoviglie. Ma è sicuro che ti hai compri ste robe qua su Amazon. Anch'io. Mio fratello, lui, ordina in due ore ce l'ha. Mi ha scritto di sabato mattina, mi aveva invitato un collega a pranzo, e oggi ho capito perché suo figlio compie gli anni. Devo fargli il regalo. A 4-5 anni, io al volo gli ho trovato un libro di mitologia greca, così. L'ha ordinato, ok. Ha detto, fra un'ora posso andarla a ritirare. Ha la neutrogena crema corpo idratante, che la uso per le mani. Però quest'ultima che ho preso non mi piace tanto. Per le mani. Consiglio il Ciccaplast. Ah, il mio borsello da uomo. Tra l'altro, lo sto usando molto, mi ci trovo molto bene, a volte lo dimentico. Se sei di parcheggiatori o dei bagarini. Regalargliene uno di quelli Gucci con le cose proprio zar. Le ricariche per i profumatori. Dell'auto? Da casa. Vendi gatti, ammetto che non è male. Cioè, quando passo vicino alle lettiere, c'è il coso che spruzza. delle candele per il salotto. Comunque è la lista di una cinquantenne. Eh sì, non è stato filtrando un bato. Ah, uno stereo Wi-Fi. Wi-Fi, scusate. Ti chiedi chi cavolo comprerebbe mai. Ai miei genitori si è rotto lo stereo, che era di mio fratello di quando eravamo piccoli. Quindi gli si è rotto i miei e hanno chiesto a me e mio fratello per trovare uno stereo. Però ho un casino a trovare uno stereo. Ci sono anche poche review, cioè non si sa più nessuno. Copri termosifoni. Ah, beh, questo è fondamentale. Per nasconderlo? No, perché la mia casa è rimasta impigliata nel termosifone, quindi ho comprato su Amazon, costa anche un botto dei copri termosifoni che fanno sì che tu spenda più di riscaldamento. Non benissimo. Beh, i filtri per la fontana dei gatti potrebbero andare avanti all'infiltro. Siamo al 20 ottobre 2021. Tu prendi un botto? Compro un botto su Amazon. Sì, ma mi piace sapere che sia roba utile. Non è vero! Sì, è strautile quello che prendi. Ieri, Vezzi, ci sono arrivate due ciotoli per cani. Tu non hai un cane! Ma ogni tanto lo ospito e la persona che lo porta deve portarsi le ciotole e tutte le cose in viaggio, in treno, è un casino. Potrebbe portarle una volta lasciate. Le due ciotole grandi così. Non le ho viste, le ho prese su Amazon, non le vedi su Amazon. Ma che sono le misure? Quanto c***o sono arrivate grandi, le devo cambiare. Ma te sono giganti! Le volevo così. Sono tipo da lano. Gli hai preso un cuscino che voglio? Ma perché non guardi i centimetri delle cose? Ma gli ho visti i centimetri, ma non sapevo quantificare. Ho comprato un caricatore con batterie per la videocamerina dei vlog perché l'ho perso. Shampoo extra delicato e il secondo volume di 20 century boys. Ti fermo un attimo. Noi sono due settimane che andiamo al supermercato insieme e tu continui a comprare dello shampoo. No, ho preso il bagno in schiuma. Tra l'altro l'ho perso. È rimasto da qualche parte. Il secondo volume di 20 century boys. È tutta roba ok. Vai avanti. Hai letto? Ancora no. Tazzine delle giuste misure della caffettiera. Una gran p***a. Sono tazzine delle dimensioni giuste per il caffè della macchinetta che fa le dimensioni diverse. No, tazzina ci sta comunque a precisare. Esattamente. Allora, specifichiamo che Nelson ha preso una macchina del caffè avanzata dove non puoi scegliere la lunghezza del caffè. Esatto. Porta capsule. Prese adattatore da presa inglese a italiana. Perché devi partire? No, per la macchinetta perché l'ho ordinata per sbaglio e mi è arrivata per la presa inglese. Assurdo, cioè tu entri su Amazon e comunque compri. Tu vedi una roba che ti piace. Ma questa è tutta roba che mi serve. La macchinetta del caffè. La macchinetta del caffè. Quello è stato un acquisto impulsivo, puoi dirlo? Sì, però bello. No, è bello. Viva, qui ce l'avevi già uno. Io avevo quella. Aveva tre. Ormai hai fatto un po' una regressione. Era meglio quella. No, questa è una bomba. Il bollitore dell'acqua, questo un po' è molto importante. No, è strautile. Allora, in realtà mi è servito un botto l'altro giorno per fare le uova alla coca. Il terzo volume di Fullmetal Alchemist. Ma li devi leggere. Non so. Volume 6, volume 5, volume 4 di Tokyo Revengers. Quindi si impari con Tokyo Revengers? No. Tokyo Revengers. Ho letto il primo. Eh? Una Woodwick. Ah, una candela. Ok. Di preservativo. Siamo ancora a febbraio, vero? Fine gennaio. Una crema per la barba perché l'avevo appena comprata a nuova al supermercato ma me l'hanno buttata all'aeroporto. Una spazzola perché quando mi hanno buttato la crema all'aeroporto ho girato per tutto l'aeroporto con la tasca aperta e l'ho persa. Assassin's Creed Valhalla. Che hai giocato due ore. Ma tu avevi Valhalla. E Elden Ring. Hai già comprato. Vabbè Elden Ring ci sta. L'abbiamo comprato tutti. Dei pacchi. Allora, qui ho fatto una cazzarra. Pacchi di caffè americano. Soltanto che io pensavo di averne preso uno o due, invece mi è arrivata una scatola piena tipo esercito. Portare. E quanto hai pagato? Vediamo a sapere. Stessa cosa è successa con il caffè in polvere della Illy per la macchinetta che non uso più. La guida di Parigi Lonely Planet. No aspetta, tu sei andato a Parigi e hai comprato la guida. L'hai usata? L'uso sempre io. Consiglio d'acquisto. A me piacciono. Prima che tu me lo dicessi non le conoscevo. Sono le più famose. Viaggio poco. Ho sempre pensato che Cartaceo sarà molto peggio di una roba rispetto a internet che è sempre aggiornata. A parte che credo le aggiornino. E poi è comodo perché se ti si scarica il telefono e sei in giro con la guida sono fatte bene. Hai un sacco di consigli agli itinerari. Poi ho altre due creme per la barba. Una che avevo ordinato e non è mai arrivata e una è quella che mi hanno buttato al... Perfetto. I cosini per viaggiare con le creme, gli sciampi e vari in aereo. Comunque la tua priorità sono creme e sciampi, eh. L'ebook a cinture. Io te lo chiedevo sempre presto. No, ma lo prestava, ma me lo dava dopo un mese. Ma alla fine se non l'hai fatto col suo. Che delusione. Altri preservativi. Entro Germina Viaggi perché mi caco addosso. Fai impressione quanto da un... Amazon comunque tu possa capire tantissime cose di una persona. Fissazioni, malattie, sessuali. Ah, c'è una roba che io non ho mai ricevuto. Forse l'avresti controllato il più suono. Una luce per selfie. No, l'hai presa come regalo. Una ring, la ring. Te l'ho presa come regalo, è vero. Ah, ok. Eh, infatti c'è il matrimonio di fotografia. E siamo a dicembre. Launchbox. Mi scusa, quando mai... Batterie ricaricabili per i pad dell'Xbox. Bravo, come hai fatto bene. Ho 98 e 99 di One Piece, che sono quelli che si attacca. È vero, belli. C'hai le... Gran cereale biscotti, le gocciole, i cornettini misura al miele, straconsigliati mi hanno ascoltato. Però ti partono dei raptus di cibo. Eh, vabbè. E sono buoni, hai i cornettini, ve li consiglio, è la colazione perfetta. I panni stelle, 100 braccialetti portafortuna brasiliani. Tra l'altro è che abbiamo visto su Twitch. Ma che c***o. No, aspetta, spieghiamolo perché magari gente non ci segue su Twitch. Questi 100 braccialetti che ha comprato è perché ne voleva uno. È l'unico modo era prenderne 100. Volevo prendermi un detergente intimo, solo che a quanto pare ci sono solo i pacchi convenienza e ne ho ordinati... No, quattro. Dai, ci stavo. Quei però ho scoperto che mi irrita e ho comprato un altro. Ah no, quelle male, ok. La tazza di The Office, World Best Post. Bella. Delle vitamine, una cosa che non posso dire, un liquore alla camomilla, stra buono. L'abbiamo assaggiato al ristorante insieme e l'ho comprato subito lì. Ah, ok. Entravamo al ristorante. Ah, ma io ne ho ordinati due delle cose che non posso dire. Eh, me l'avevi detto? Me ne volevi dare uno, infatti. Ma che va bene. Un portatelefono da treppiede, un olio anti... Un portatelefono da treppiede. E servirebbe l'aggancio per la macchina. Eh, ce l'ho se vuoi, non l'uso. No, a partiti scherzi, io tipo Nelson l'uso come... Usa è un saccallo. Precensore? No, per me ti vuoi un inventario, cioè io quando ho bisogno di qualcosa so che Nelson potrebbe averla. Se ti serve un olio per le smagliature, io ce l'ho. Un borsellino da viaggio, tipo beauty case di cuoio. Hai mai usato? Sì, l'uso sempre quello. Ha un altro Enderring. Il coso per pulire le sneaker? Tu hai comprato tre Enderring. Te lo sei fatto regalare. Oh, sì, no, ma me... Ma aspetta, ma io senza chiedere nulla... Natale, tutti gli anni a Natale ci facciamo tutti i regali a vicenda, no? Io ho detto, rega, vi ho preso il regalo e tutti mi hanno detto, ah, io no. Sono l'unico che ho fatto i regali di Natale. E lui mi fa, io ti ho regalato Elderring, tu cosa mi hai regalato? Niente. Il giorno dopo sei andato a prendere qualcosa. Io gli ho detto, Nelson, non esiste che un regalo debba essere contraccambiato da tanto il regalo. Vero, però... Capisci anche tu? Una spazzola per la schiena, una scatola intera di carte di Harry Potter. Ah, ma è vero, vero, vero. Non l'hai neanche completata, non l'hai finito. No. Cento busti per dischi per vinili. Quanti vinili hai? Un botto. Un costume d'astronauta chip da 20 euro. Le carte della Panini di NBA. Un kit allena mani. C'è l'olio che o quello? Un coso per l'olio che non funziona. Cos'è un coso per l'olio? Un coso per l'olio. Ok. Questo è fighissimo. Un aggancio per attaccarti la videocamera allo zaino. Portatevele in UK. Una lucina da notte. Sto saltando un botto di roba, cioè, c'è veramente di tutto. Voglio vedere il primo acquisto. Volevo fare un annuncio, domani saremo in live e vi sveleremo in diretta la lista Amazon di Cesare. E secondo me c'è da aspettarsi di tutto, visto che anche lui ha un po' l'acquisto compulsivo e secondo me acquista anche roba un po' strana. Il mio primo acquisto è stato nel 2011. Stavo giocando, mi ricordo, a World of Warcraft. Ho preso il mio primo mouse da gaming. Poi uno zaino ispac. Un agnello della Trudy. Io ho preso SimCity. Ah! Lo sei comprato? Il mio primo acquisto è stato Uncharted 3. Let's go! Ho credo. Io c'ho tutti i microfoni di relative. C'è lo stesso microfono perché si rompeva acquistato il 18 febbraio, il 18 maggio e il 7 settembre. E vi ricordiamo che oggi, che è domenica, toccando ferro, Nelson e Nick sono tornati da un viaggio in Scozia. Ma è Inghilterra in realtà. Ma è Regno Unito. Vecchio, se fai queste figure è finita. United Kingdom, UK. Ho fatto la chiamata con gli altri regats che sono lì. Uno è un gran figo, ce lo faremo. Ah, non siamo da fuori? No, è fighissimo questo. Cioè, è una coppia di o tedeschi o americani e uno invece è un gran figo che secondo me è spagnolo. Fighissimo! Aspettavo paesi un po' più strani, però vabbè. Cioè, noi quando andremo in live, loro saranno tornati dal viaggio. Loro torna il giorno prima, se tutto va bene, tocchiamo fare... La live comunque sarà anche magari su... Se siano tornati, eh. Vanno lì a filmare un botto di vlog. Sì. Ho preso carica batteria apposta perché ho perso tutto. Signori, ci vediamo in un prossimo salotto. Il mio prossimo acquisto a Amazon sarà una coperta antifiamma. Che consigliamo a tutti. Che consigliamo a tutti bisognerebbe averlo in casa. Gli incendi domestici sono tre volte maggiori rispetto agli incendi denti sul lavoro. Ok.